Edshot ragazzi, sono TBlackGame, bentornati a questo mio nuovo video. Oggi sono qui per annunciarvi che domani, domenica 5 febbraio, vi raggiungo una nuova modalità negli elenchi community di Xbox 360 e Playstation 3. La modalità che vi raggiungo è la modalità infetto. Sì, infetto, avete capito bene. Quella che tanti di voi amano e che giocano solitamente in modalità, cioè sempre, in modalità partita privata. Da domani sarà disponibile anche online multiplayer. Allora, parliamo un po' di questa modalità. Questa modalità sarà suddivisa in 4 sottogruppi. E questi 4 sottogruppi, in pratica, rappresentano le armi che verranno utilizzate. Cos'è che succede? Allora, quando giocherete infetto, la partita potrà essere divisa in una di queste 4, chiamiamole modalità. Invece sono le classi. Esso vi elenco un po' le classi che vi troverete. La prima classe, quella che utilizzerete più spesso, quella che comparirà più spesso, è la classe, quella del coltello degli infettati contro lo striker. Questa... Scusate. Questa modalità, questa classe, verrà utilizzata su 14 mappe, ossia Dome, Ardat, Mission, Resistance, Villager, Cadence, Seatown, Fallen, Lockdown, Underground, Bootleg, Outpost, Bacara e Carbon. E questa classe... Chiedo scusa, ma l'influenza qui... E questa classe sarà suddivisa. Per gli infettati, come arma primaria avranno un SP senza munizioni con coltello tattico. Come equipaggiamento avranno un coltello da lancio e... Un coltello da lancio e un'infiltrazione tattica. Come perk avranno condizioni estreme e estrazione rapida e come serie di morti avranno energizzato. I sopravvissuti, invece, avranno come arma primaria lo striker con caricatori aumentati e danno. Come secondaria avranno, invece, la 5-7 a Kimbo e come equipaggiamento avranno una Claymore e un fumogeno. I bonus di questa classe saranno sciacallo, estrazione rapida e mira stabile. Invece... Scusate ancora... L'infetto iniziale avrà uno striker, anche lui, con caricature aumentate e danno con le munizioni, che poi scomparirà appena ucciderà una persona. E con arma secondaria avrà una 5-7 a Kimbo, con equipaggiamento e coltello da lancio, infiltrazione tattica e come perk, condizioni estreme, estrazione rapida e mira stabile. E come serie di morti avrà punte vuote. E questa è la prima classe. La seconda classe, che verrà... Che comparirà spesso, ma... Un po' meno. Ossia, verrà utilizzata sulle mappe Ardat, Mission, Resistance, Village, Arkaden, Seatown, Fallen, Lockdown e Carbon. Gli infettati di questa classe avranno un USP con coltellino tattico e come equipaggiamento avranno l'infiltrazione tattica e bassa. Poi come perks avranno condizioni estreme e distrazione rapida e come serie di morti energizzato. I sopravvissuti invece come arma primaria avranno una... Allora, mi sono perso. I sopravvissuti invece avranno come arma primaria una 44 Magnum a Kimbo. Sì, nessuna arma primaria e una secondaria ma avranno quella. Come equipaggiamento avranno un C4 e una granata stordente. Come perk qui avremo invece sciacallo, estrazione rapida e mira stabile. L'infetto iniziale invece avrà come arma primaria una 44 Magnum a Kimbo con come equipaggiamento un coltellino da lancio, un'infiltrazione tattica e come perk avranno condizioni estreme, estrazione rapida e mira stabile e se di morti punte vuote. La terza classe invece sarà quella del Juggernaut contro l'MK46 e questa classe la troverete solamente su DOM. E cos'è che succede? Degli infettati saranno dei Juggernaut e come arma primaria avranno un SP con coltellino tattico e come equipaggiamento avranno un'infiltrazione tattica. Come perk invece avranno condizioni estreme, estrazione rapida e silenzio di tomba. Mentre i sopravvissuti avranno come arma primaria un MQ46 con calcio e come secondario un RPG con e avranno Claymore e granate fumogene. Come perk invece avranno sciacaldo, estrazione rapida e mira stabile. L'infetto iniziale invece sarà come i sopravvissuti, ossia un MK46 con fuoco rapido e caricatori aumentati. Come secondario un RPG con infiltrazione tattica e come perk avranno condizioni estreme, estrazione rapida e mira stabile. Come serie di morti punte vuote. E questa è la terza classe. Infine, l'ultima classe sarà lo Striker contro i Juggernaut. Cos'è che succede? In questa classe, questa classe verrà utilizzata solamente su DOM e in questa classe il recupero della salute sarà molto molto lento. E cos'è che succede in questa classe? Gli infettati utilizzeranno uno Striker con come competenza la portata e caricatori aumentati e come arma secondaria l'XM25. Sì, quel lanciagranate che viene mirato come un gecchino. Scusate, ma l'influenza qua mi ucciderà. E come equipaggiamento avranno una Semtex e un'infiltrazione tattica. Come perk qui avranno gioco di prestigio, estrazione rapida e mira stabile. Come serie di morti avranno mano del morto. I sopravvissuti invece saranno dei Juggernaut. E questi Juggernaut avranno come arma una 44 mani un Makimbo e come bonus solamente Sciacallo. Mentre l'infetto iniziale, anche lui sarà un Juggernaut e avrà come arma primaria invece uno Striker con competenza portata e caricatori aumentati. Secondaria un XM25 e con equipaggiamento Semtex e infiltrazione tattica. I perk saranno condizioni estreme, mira stabile ed estrazione rapida. Serie di morti, punte vuote. Allora ragazzi, riprendiamo. Adesso ci calmiamo un po' e vi spiego bene. Queste sono le quattro classi che potrete utilizzare in questa modalità. Non le sceglierete voi ma le sceglierà direttamente il computer mentre giocherete il computer nel senso la console. Per chi non conoscesse questa modalità allora, tutti i giocatori sono chiamati, detti, sopravvissuti. Uno di questi è l'infetto. L'infetto deve uccidere uno dei sopravvissuti e una volta che l'avrà ucciso questo infetto diventerà infetto come tutti gli altri infetti ossia non avrà munizioni ma dovrà accoltellare tutti i sopravvissuti. Infatti, per accoltellarlo lui non avrà munizioni ma tutti gli altri sopravvissuti invece potranno utilizzare le armi per uccidere questi infetti. Questa modalità la scoprirete meglio per chi non la conosce appena uscirà, ossia domani. Parliamo un po' del gameplay che stavo usando la PP90M1 silenziata e caricatori aumentati nella mappa downturn in modalità dominio. In questa partita chiamo la mob ma succede che la partita finisce prima che la mob esploda quindi è un bel fail e vabbè se il video vi è piaciuto se il video vi è piaciuto se queste informazioni vi possono vi sono tornate utili lasciate un bel mi piace vi invito ad iscrivervi e vi invito anche ad andare a vedere tutti i posti per infetto che ho già fatto i video ve li lascio in descrizione oppure li troverete sul mio canale e vi aspetto al prossimo video ragazzi ciao